le bike sono tutta un'altra faccenda richiedono uno sviluppo di componenti specifici e su questo in questa direzione l'industria della mountain bike si sta si sta orientando ad esempio il focus principale del primo provalo con noi è stato proprio lo sram e x1 sia la prima trasmissione specifica per mountain bike assistita questo gruppo prende il background tecnologico di questo gruppo è il medesimo di tutti gli altri gruppi sram quindi dal xx1 a 11 velocità all xx1 eagle questo gruppo qui ha richiesto però un lungo periodo di sviluppo di affinamento so frank quando hai realizzato a fare una specifiche drive train per i suoi e-bikes? abbiamo seguuto i suoi e-bikes since i suoi iniziato con il nuovo mountain bike e-bikes e quindi in questo modo abbiamo realizzato 4 anni fa 4 anni fa, eccellente! quindi questo è un'altra trasmissione con 8 spedare invece di 11 spedare molte persone pensano che 8 spedare potrebbe essere abbastanza o non abbastanza ma perché hai chiesto 8 spedare? abbiamo fatto un po' di acquistare un po' di acquistare abbiamo fatto un po' di acquistare e abbiamo trovato che con le spedare quindi con le spedare 8 spedare più di abbastanza o meno quindi le spedare sono delle giuste con 84 spedare e 11 spedare qu'è cambiata in modo in modo di raccogliere il caos 3 spedare per i suoi e-bikes? come per il caos 4 spedare o i suoi migliori? questo è un nuovo caos 4 spedare ogni tipo di calcio è scogliere per a mano si stanno fully shift under load to reduce the wear and destroy it like a chain. Perfect, so cassette and chain are specifically designed for working together. Yeah. This chain here is a 10-speed chain. Nearly, it's nearly 10-speed chain. We worked a little bit on it to make it a little bit wider, to go easier, to make an easier and smoother shift. And that was the only part we've done to the chain. Okay, so the cassette is made in steel, right? Yeah. Except in the 48 cocks, this is alloy. Yeah, that's alloy. Okay, does alloy work good with wear? Does it restricts to a lot of kilometers, a lot of stress? Yeah, it works perfectly because on this part you have less torque. Okay. So you have the most torque you have on the small rings actually for the cassette. And that's why we made them extra easy to change if they wear out, so you can change. So this is replaceable? That's replaceable. Okay, perfect, perfect. What about the shifter? It's 8-speed obviously and I know that you can only shift one gear at a time. Okay, yeah, that's right. You only can shift one gear, so it's only to control the shift. Okay. So it's easy if you normally you do as a biker sometimes you do double shifts and then you not control the shift. So the chain runs over some teeth and can damage the chain, so the chain can break. Yeah. But so with one shift you really control the step by step and you really reduce the wear of a chain and no risk on a chain break. Okay, perfect. Talking about the rear derailleur, basically it's the same design, the same technology we find on a regular one-bike system, so XRI is on design, roller bearing clutch. Basically it's the same, you only have a stronger cage here, it's made in an alloy, right? Yeah, so maybe made a little bit stronger because with the huge power of the engine and your legs, you need a stronger cage and also if you do hard riding, hit some rocks and stuff. So you want to make it secure, really make sure that all your rear derailleur is working perfectly. Okay, perfect. Nice to talk to you, Frank. Yeah, thanks for the invitation. It's very, very, very interesting to give our readers a nice opportunity for riding. Da adesso in poi, torniamo a parlare in italiano, da adesso in poi ci concentreremo sulle esperienze di guida dei cinque lettori che abbiamo invitato. Abbiamo chiesto loro di esprimere dei pareri e dire che cosa realmente pensano del EX1 e delle e-bike. Quindi andiamo avanti.